Terza tappa del nostro viaggio alla scoperta dei corsi di specializzazione post diploma di Galdus Settore agroalimentare, food and beverage and food tech La tradizione e la particolarità dei nostri prodotti italiani costituiscono un patrimonio di grande valore La digitalizzazione dei processi sta rivoluzionando il settore agroalimentare e della ristorazione Se sei un appassionato di food, Galdus offre corsi di specializzazione in questo ambito in collaborazione con prestigiosi partner del settore agroalimentare e della grande distribuzione Imparerai a coniugare molteplici capacità, dalla conoscenza e dall'organizzazione del servizio ristorativo all'utilizzo di strategie di marketing e promozione dei prodotti all'utilizzo di nuove tecnologie digitali a supporto dei processi di lavoro Diventerai così un esperto della produzione e della trasformazione artigianale e innovativa dei nostri prodotti italiani Se vuoi conoscere tutti i dettagli dell'offerta formativa di Galdus scrivici a orientamentochiocciolagaldus.it e richiedi un colloquio Scegli oggi il tuo futuro Fallo con Galdus Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti